Oh mio Dio! Cos'era? Mi hai sparito! Ma si dispensato! Cosa è stato? Oh, cosa è stato? Aiutatemi! Sono una persona viva! Aiuto! Ah! Ah! La mia vita! Ah! Che schifo! Sono ancora vivi in tanti! Mamma mia! Oh mio Dio! Mi ha sparito! Santidio! Ah! Io me ne vado, me ne vado, no, no, non te ne vado, io me ne vado! Non te ne andrei! Aiuto! Non è possibile! Mamma! Mamma! Mi prepari la zuppa! Oh, God, God! God! No! 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 Grazie a tutti.